Rossignoliro Master, il nostro sci più iconico e lo sci che ormai ci ha accompagnato negli ultimi 10 anni come uno dei migliori sci in assoluto sul mercato, lo ripresentiamo totalmente uguale anche a livello grafico rispetto alla stagione passata, quindi lo confermiamo totalmente, in questo caso nell'ambito dei test abbiamo il Master M17 17 metri misura 173.